storie di natale togliamo il libro natale ogni giorno c'era una volta una bambina a cui natale piaceva così tanto che avrebbe voluto fosse natale ogni giorno dell'anno non appena trascorso il giorno del ringraziamento cominciò a mandare cartoline alla vecchia fata del natale per chiederle di esaudire il suo desiderio la vecchia fata però non rispose allora la bambina cominciò a scriverle delle lettere la vigilia di natale ne ricevette una in risposta dalla fata le comunicava che sarebbe stato natale ogni giorno per un anno e che poi eventualmente avrebbero deciso se continuare la bambina era già piuttosto emozionata per i preparativi del vecchio natale e forse la promessa della fata non la non le fece l'impressione che le avrebbe fatto in qualsiasi altro momento dell'anno andò a letto presto per permettere a babbo natale di lasciare i doni nelle calze al mattino si alzò per prima e trovò la sua rigonfia di pacchetti di caramelle arance palline di gomma e tanti altri piccoli regali attese che il resto della famiglia si svegliasse e fu la prima per precipitarsi in biblioteca ad ammirare i grossi pacchetti disposti sotto l'albero libri scatole di articoli di cancelleria bambole fornelletti pattini cornici per le fotografie scatole di acquerelli torrone ciliegie candite case di bambola e il grande albero di natale tutto luccicante infilato in un cestino al centro della stanza fu un bellissimo natale mangiò così tanti dolciumi che saltò la colazione e andò subito in giro a distribuire i regali agli amici e ai parenti poi tornò a casa e pranzò con tacchino alla salsa di mirtilli budino noci uva sultanina arance e altre prelibatezze quindi uscì con la slitta e rincasò in preda ai dolori di pancia dopo una cena tutti andarono a letto presto di cattivo umore dopo una cena leggera tutti andarono a letto presto di cattivo umore la bambina dormì della grossa fino a tardi ma alla fine fu svegliata dai suoi fratelli che ballavano intorno al suo letto con in mano le calze piene di regali cosa c'è chiese la bambina stropicciandosi gli occhi natale 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 gridarono gli altri ma è assurdo natale era ieri i fratellini e le sorelline scoppiarono a ridere questo non lo sappiamo in ogni caso oggi è natale allora di colpo la bambina capì che la fata aveva mantenuto la promessa e che il suo anno di natale era cominciato aveva un gran sonno ma balzò in piedi come una lodola anche se una lodola che aveva mangiato troppo ed era andata a letto di cattivo umore e corse in biblioteca era tutto di nuovo lì i libri gli altri doni e l'albero di natale illuminato i suoi familiari insonnoliti stavano già scartando i regali il papà era sballordito e la mamma sembrava sul punto di scoppiare in lacrime lui disse che gli pareva di aver visto qualcosa di simile il giorno prima ma che forse se l'era sognato ebbene il giorno seguente accadde esattamente la stessa cosa ma tutti erano sempre più irritati la bambina cominciò a convincersi che non fosse il caso di tenere quel segreto tutto per sé voleva confidarsi con sua madre ma non osava e si vergognava di chiedere alla fata di riprendersi il regalo perché le pareva un gesto ingrato e scortese tuttavia non sapeva come avrebbe potuto sopportare quella situazione per un anno intero e così i giorni passarono fu natale a san valentino e per l'anniversario della nascita di washington la serie di natali non si interruppe neanche il primo aprile dopo un po i tacchini vennero venduti al prezzo astronomico di mille dollari l'uno e i mirtilli beh quelli costavano quanti diamanti tutti i boschi e frutteti furono abbattuti per ricavare alberi di natale e dopo un po ci si dovette ingegnare a fabbricare alberi di stracci in ogni caso di stracci ce n'erano in abbondanza poiché a furia di comprare regali la gente era diventata così povera che non poteva permettersi di comprare abiti nuovi e portava quelli vecchi fino a ridurli in brandelli ebbene dopo tre o quattro mesi trascorsi in questo modo ogni volta che al mattino la bambina entrava in salotto e vedeva quelle grosse e brutte calze rigonfie penzolare dalla mensola del caminetto e disgustosi regali dappertutto si sedeva e scoppiava a piangere nel giro di sei mesi era assolutamente esausta non riusciva più nemmeno a piangere verso l'inizio di ottobre prese a sedersi sulle bambole dovunque le trovasse e quando arrivò il giorno del ringraziamento era impazzita e non faceva che scaraventare regali per la stanza ormai la gente non bustava più alle porte per consegnare i doni ma li lanciava oltre gli steccati o attraverso le finestre e sui biglietti d'auguri scriveva prendi questo vecchio brontolone quasi tutti avevano costruito dei capannoni dove accatastare i regali ma ben presto anche questi furono pieni perciò la gente prese a lasciare la roba in giro sotto la pioggia o dove capitava a volte la polizia intimava loro di spalare i regali dal marciapiede se non volevano essere arrestati ebbene prima del ringraziamento si era scoperto chi fosse responsabile di quei natali perché la bambina si sentiva così in colpa che aveva parlato nel sonno a quel punto nessuno aveva più voluto giocare con lei la bambina cominciò allora ad inviare lettera alla fata perché ponesse fine a tutto questo ma non servia nulla e le cose andarono avanti così finché non arrivò la vigilia di natale la bambina si addormentò e il mattino dopo quando si svegliò scoprì che finalmente non era natale e che non lo sarebbe stato mai più ci furono grandi festeggiamenti ovunque la gente si radunava si scambiava baci e piangeva dalla gioia le carrozze fecero il giro della città e raccolte tutte le caramelle le gettarono nel fiume da nord a sud gli stati uniti vennero illuminati dai falò in cui i bambini bruciavano biglietti d'auguri e regali di tutti i tipi si divertirono un mondo la bambina andò a ringraziare la vecchia fata per aver interrotto quella serie infinita di natali e le domandò di fare in modo che il natale non tornasse mai più la fata si accigliò e volle sapere se era sicura di quando di quanto le stava chiedendo la bambina ci ripensò e disse che avrebbe voluto che il natale venisse una volta ogni mille anni anzi ogni cento no a ogni dieci e alla fine scese a uno la fata le fece notare che quella era la buona vecchia usanza che aveva soddisfatto la gente da quando esisteva il natale e così si misero d'accordo la bambina disse di cosa sono fatte le tue scarpe la fata rispose di cuoio intrecciato patto stretto patto saldato concluse la piccola ed era così felice che saltellò fino a casa fine buonanotte